ma che è l'osport? aspetta che devo vedere quello che è sua ti dico io 3 2 1 vai ahahahah 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 1 2 3 ahahahah ahahahah ahahah ma guarda, si no, si, vecchio così e la alto così e poi è ma proprio forreggio ma ti rai a capo dove andavo? 5 6 go è troppo pesato i miei capecacchelle dammi, altima qua così ahahah no no io sono lungo si, po' qua 3 ahahahah la città puttica, sbagliati di me 3 ahahahah 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 3 2 1 ahahahah 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 ahah 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 Grazie.